Come commenta la decisione della consulta? E' uno schifo assoluto, non è tollerabile che questi qui si inventino che non si vota più, che non c'è neanche più la democrazia. Tolgono le pensioni, ci obbligano a lavorare fino a 70 anni, il governo ha limato ulteriormente le pensioni da gennaio e tolgono la parola agli elettori, ai cittadini e alla gente per potersi esprimere sulla schifezza Fornero. Io ricordo che il PD ha votato questa legge, in campagna elettorale disse che l'avrebbe modificata, oggi difendono la legge Fornero e la cosa più scandalosa e intollerabile è che quando è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale si sono messi a ridere, ad applaudire in aula sulla sentenza per non far votare lavoratori e pensionati sulla schifezza Fornero.